Quando ha saputo di essere positivo al Covid-19 si è sentito crollare il mondo addosso, forse per paura della morte o della solitudine. E così, a 92 anni, è salito sul tetto del proprio palazzo per farla finita. A salvare l'anziano, fortunatamente, sono stati i carabinieri di Arezzo. È successo lunedì pomeriggio attorno alle 14.30 in via Teofilo Torri. Il pensionato, infatti, dopo aver scoperto di aver contratto il coronavirus, approfittando di un momento d'assenza della moglie, è salito sul tetto intenzionato a lanciarsi nel vuoto. A notarlo immobile, al di là del parapetto della terrazza condominiale, un passante che ha immediatamente dato l'allarme ai carabinieri. Sul posto sono così intervenuti i militari della compagnia di Arezzo, guidati dal colonnello Pierfrancesco Di Carlo e i colleghi del reparto operativo. I carabinieri, dopo essersi fatti aprire dai vicini, sono saliti sul tetto dell'edificio. Hanno iniziato così a parlare con l'anziano, lo hanno calmato ed infine un militare lo ha afferrato per il maione e lo ha messo in salvo affidandolo alle cure del 118. L'uomo avrebbe raccontato di temere di essere portato in ospedale e non rivedere più la sua famiglia.